Il Fuzzimib chiude in negativo a meno 0,06% una seduta a due facce, trenato durante la mattinata da FCA e trascinato in negativo dai titoli bancari nella seconda parte della giornata. Lo spread sfiora 280 punti, base per effetto del maggior scetticismo relativo all'esito delle elezioni europee. Durante la seduta, volumi sottili a causa dello stop di Londra e Wall Street, chiuse per festività.